Partiamo proprio da lì, partiamo da quel sinistro dove tra l'altro essere sostituito qualche minuto prima, poi la sostituzione non si è fatta, ti è capitata la palla buona e hai trovato l'angolino. Peccato che non è servito per i tre punti. Infatti l'ultimo pezzo che hai detto è quello da cui ci sto pensando da un po' veramente perché sono nervosissimo, perché sono felice di aver trovato il gol, ma è più il nervosismo che prevale dopo questo pareggio. Perché la partita è stata una partita difficile, abbiamo trovato il gol e poi non siamo stati bravi a chiudere la partita, l'abbiamo lasciata, abbiamo fatto prendere coraggio al Ponte d'Era che è riuscito a pareggiare. E' stata proprio questa la chiave in negativo della giornata, aver fatto capire al Ponte d'Era che poteva pareggiare. Sì, non siamo stati bravi subito dopo il gol a metterli alle corde, gli abbiamo fatto prendere campo e gli abbiamo fatto prendere coraggio. Questo qua è stato secondo me la pecca della nostra partita perché appunto loro prendendo campo e avendo occasioni non hanno mollato fino all'ultimo. Se con tanti se poi la partita sarebbe andata diversamente, però la chiave era proprio chiuderla subito dopo aver fatto gol così loro non prendessero coraggio. Io sono perfettamente d'accordo con te Luca su questa cosa che hai detto, che tra l'altro abbiamo analizzato anche con l'allenatore. Ti chiedo un'ultima cosa che ha detto il presidente poco fa che i vantisci da studio. Giocatori con la tua qualità, anche come Dursi, perché non tentate più volte questa conclusione da fuori quando l'area è completamente intasata? Purtroppo io se potessi tirerei sempre, purtroppo però l'occasione e lo spazio è veramente ridotto, soprattutto quando vengono squadre che comunque si difendono e basta e tendono a lanciare palloni alti tutto il tempo. Appena l'opportunità, appena lo spazio libero io ci provo sempre a tirare, però non è facile.